Ciao ragazzi, siamo su giorno 2 del nostro challenge, il nostro challenge dedicato a Fluid Di nuovo faremo circa 10 minuti solo di introduzione Dobbiamo assolutamente trovare una sana convivenza con questa nuova prova Ci richiede coraggio perché sono esercizi nuovi Bracci dietro la nostra schiena a cactus nel giro frontale Voi rimanete con il vostro sguardo verso la frontale del vostro tappeto Ci mettiamo spalle indietro e andiamo su e indietro, leggermente indietro le spalle Cactus nel nostro braccio per sentire le spalle che si riscaldano e che si aprono Perché dove io ho notato sul mio viaggio di calistenico i blocchi Ho notato blocchi sui polsi, spalle Io ho un problema del ginocchio destro così, questo è più che un blocco a una tendinite mio Però i blocchi sono spesso e volentieri intorno all'articolazione Perché Fluid oltre a potenziare tantissimi muscoli aiuta a riaprire o lubrificare i nostri articolazioni Mani su e cominciamo a fare stelline Senti come si sono riscaldate tantissimo i nostri avambracci Scendiamo giù, divaricano le ginocchie, questo si chiama Child's Pose Popastrelli inissati Lascia le popastrelli che spingono contro il pavimento La fronte o il mento giù a terra E provi di abbassare il petto ma spingere sul popastrelli per sentire il lavoro sulle spalle Inspiro Inspiro, relax Inspiro Inspiro, relax Inspiro Inspiro Ok, lascia le mani rilassare Lascia tutto da stress andare via E provi soltanto ad entrare Nel tuo rilassamento mentale, fisico Poi indietre le mani Lascia le mani all'altezza delle ginocchia Ok E qui spingo contro il pavimento Ok E spingo su il collo del piede Ok E microscopico Uno Due Questo è proprio per il collo del piede E tre Ultimo E quattro Relax Cammino in avanti con le mani Andiamo in down dog Piegando le gambe Ok E semplicemente pedalando verso basso Perché è un riscaldamento Lo senterai nelle leanche Nei polpacci Nelle braccia Tiro indietro con le braccia Tiro indietro con le braccia Spingo indietro con le mani Poi entrambi i piedi su Inspiro Inspiro e allungo Statico questa volta I talloni possono mai toccare per terra Non è una comparativa Di quelle che faccio io E quelle che fai tu Ma giorno dopo giorno Magari stai qua Su così Giorno dopo sarai un millimetro Più vicino alla terra Fino a Qualche mese In là Che troverai che i talloni Trovano la terra Su con i talloni Li portiamo a sinistra E mi allungo Il lato sinistro del corpo Rilassati Inspiro su Spesso Per anni ho fatto anche io I talloni dall'altra parte E allungo dall'altra parte C'era questa ricerca Che l'allenamento Doveva essere aggressivo Per essere utile Oh devo fare questo Deve fare quell'altro Deve essere difficile Deve essere Ma ho notato che Con fluid Ok Portiamoci avanti In planche Anche senza aggressività Puoi fare tanti Anzi Quasi quasi fai di più Ginocchio giù Ok Cominciate Con le ginocchie giù A sollevare Diciamo Sulle polpa strade Della mano Il palmo Del braccio destro Le ginocchie sono piegate Questo è per i polsi Io ho detto I polsi sono delicatissime Specialmente per i principianti Ci ho messo mesi Per rieducare il mio polso sinistro Secondo me Non ci sono Per certi versi Io lo faccio da 5 anni Però io insisto Io ci lavoro Io modifico Cioè Nel nostro Allenamento di fluid Devi essere modificato Per avere La nostra Diciamo Crescita La nostra crescita Ok Da qui Ritorniamo in planche Pieghiamo le gambe E torniamo indietro Adesso facciamo questo Semplicemente Un paio di volte Immaginate Di essere Un onda 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 Che vengono avanti Sono in planche Piego le gambe E torno indietro Spingendo giù Più possibile Per il mio corpo Per il mio viaggio Giornaliero Che è oggi Taloni verso terra Bicipidi frontali Tricipidi Verso i piedi Collo rilassato Spalle lontano dal collo Vengono avanti Fluido 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 Onda Piego le gambe Torno indietro Spingo In avanti Onda 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 Piego le gambe Indietro Indietro Anche per i miei amici Che magari sono un po' più avanzati Che fanno fluid Da un po' di tempo Noterete che anche questi movimenti Semplicissimi Possono Possono Farti capire qualcosa Di crescita Indietro Ancora in avanti Ancora in avanti E indietro Ok Pieghi Rimendo qua Stendo le gambe Più possibile Guardo in avanti Piego le gambe E cammino in avanti Spingendo sulle braccia Cammino in avanti Come se stessi Scallando Everest Stendo le gambe In avanti Espiro Scendo In Inspiro Su E torno in centro Inspiro Su Questa è Saluto al sole U A Ok Io sto Guardando il sole Oggi stamattina A Fuerteventura Torno indietro Abdominale tesi Adesso Genocchia giù Scendiamo fino a terra Per 4 Per 3 Per 2 Appoggiati a terra Bravi Adesso facciamo cobra Cobra che sono Gomiti stretti Mani all'altezza del petto Rilassa le spalle giù Lo sguardo non è troppo alto Scendo giù Questo appunto Spingo indietro Sulle ginocchia Sollevo Le anche E turn and down We're looking dog Ok Eccellente Pieghi le gambe Guardi davanti Spingi sulle mani E avanzi Come se stessi Provando Di scallare Un montagna Dai Anche Tantissimo Pressioni sulle mani Le gambe vengono avanti Stendo le gambe Più possibile Guardando Leggermente di fronte Il mio tappeto Inspiro Espiro Sollevo Inspirando Mani di fronte Il cuore Inspiro Espiro Scendo fino a terra Provando di tenere La schiena Dritta Più possibile Le gambe Possibili Se non è possibile Li pieghi Mani giù Porto le gambe indietro Sono in plank Posso tentare Di arrivare a terra Con Guardami Così Volendo Scendendo Insieme Ottimamente Ginocchia giù E facciamo Per quattro Per tre Per due Ed uno Le braccia Visto quanto abbiamo Da lavorare Sulla forza della braccia Gomiti stretti Spalle basse Non devi venire Troppo in alto Lo sguardo È rilassato Verso fronte Scendo giù Mi piego Indietro Sulle ginocchia Vedi Pianto i piedi Stendo le gambe su Portiamo La gamba Destra su Inspiro Lo porto Il ginocchio Al petto Più possibile E vorrei Che la poggiasse Tra le mani Le prime volte Questo magari Non è facilissimo Così Quando la porto Il ginocchio qua E la poggio Magari a questa altezza Con la mano destro La faccio avanzare Affinché Il ginocchio Destro È allineato Sopra Il tallone Destro Qua Stendo la gamba Sinistra Tutto sta lavorando Sia il piede destro Che la gamba Sinistra Ok Quando sono in fluid Chiamo sempre Le mie gambe Quello che sto utilizzando Mia Ok Questa è la mia gamba Adesso non sto lavorando A specchio Adesso qua Trattenete questa posizione Porta le braccia Giù 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 Incrociate Ok La mano Il mignolo destro Sopra la mignola sinistra Apro questo Appoggio il tallone indietro E mi inchino Ok All'interno del ginocchio destro Ok Qui Per non Iperestendere Le spalle Tiro fuori Sulle mani E piego leggermente Le gomiti Per non Iperestendere Il gomito Ok Non voglio vedere questo Non devi esagerare E semplicemente Apriamo le spalle Apriamo le gambe Poi guardo in su Lascio le mani Mani a terra Il piede viene indietro Sono in plank Piego le ginocchia Scendo in quattro In tre In due Qui Mini cobra Non esagerare Non devi essere troppo alta Espiro e scendo Spingo dietro sulle ginocchia Inspiro Espiro Down dog Inspiro la sinistra su Lo porto al petto L'appoggio O tra le mani O qua E avanzo Ognuno Ok Se sono qua Mi aiuto con la mano Per arrivare in avanti Trovo un appoggio Comodo Sulla sinistra Stendo la destra E poi l'altra cosa Per fare il fluid Molto importante Di avere i tappeti Anti scivolo Perché ti aiutano la vita Perché altrimenti Se devi anche fare tutto questo E provando di non scivolare Rende l'esperienza Un po' Sconfortevole Non è piacevole Ok Portiamo le braccia indietro Questa volta Il miglioro sinistra Va sopra Appoggio e talone destro Mi inchino in avanti Humble warrior Guerriero umile Divarico I gomiti leggermente Tiro Sulle mani Rilassi il collo Senti come le spalle Si stanno largando Lascia le mani Mani a terra Andiamo in plank Addomine le tesi La teniamo per 10 9 8 7 6 5 4 3 Piega le ginocchia Mette giù Scendiamo giù per 4 Per 3 Per 2 Appoggia Gambe giù Cobra C'è una mosca Che veramente Vuole fare Fluid con me Scendo giù Piego indietro Sulle ginocchia Stendo su E adesso Cammino in avanti Portando una ginocchia giù L'altro giù Andiamo sulla schiena Voglio che trovate Anche di fare un po' di movimenti Di allungamento per la schiena Rimaniamo giù Con le mani Provi di toccare i taloni Ok Andiamo in bridge Ok ponte Allora Provi di avvicinare le scapole Sotto la schiena Due imprinting Due impronte Delle vostre piedi Che stanno giù a terra Ok Sollevole anche Respiro E scendo Ancora Inspiro su Senti la schiena E scendo Stendi la gamba sinistra Piego la destra Sopra la sinistra E fai Un'intorsione di schiena Se senti la schiena Scrocchiare È normale Non vi spaventate Dici Ah mi sta scrocchiando No meglio Ok Quello che facciamo Io mi osteopata Ogni tre settimane Ormai vado Ogni tre settimane Perché mi ha realinato Alle grandi Mi osteopata Però mantengo sempre Vado sempre Una volta al mese Prima di essere sicuro Che rimango Centrata Questa macchina dell'anima Fluida è anche per questo Mettete giù le gambe Per un attimo Chiudete gli occhi E respiro Pensami Quanto sei Brava Perché l'hai fatta Ti sei superato La tua paura Ti sei armato Di sana coraggio Sana coraggio Chiudete gli occhi Cominci a sollevarti Piano piano Grazie Desietà Fluida va bene per tutti E' davvero Un'arma incredibile Per avere il corpo Dei tuoi sogni Pace dalla G Vi aspetto sempre qui Per questo challenge E passate una giornata Magnifica Grazie a tutti 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 Grazie a tutti